Il profumo e il sapore del caffè, il rumore delle macchine, del bar, il gusto di una tazzina appena servita. Il terzo appuntamento dedicato ai 40 anni del SIGEP a Rimini Fiera dal 19 al 23 gennaio 2019 ci porta nel mondo della bevanda più famosa d'Italia, il caffè. Tra gli stand del Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè abbiamo intervistato il direttore e manager di Passalacqua, l'amministratore delegato di Caffè Berniano e responsabile vendite di espresso italiano Atti Bassi. Passalacqua rappresenta la storia e la tradizione napoletana, un caffè di altissima qualità di una famiglia, un'azienda familiare nata nel 1948, oggi compiamo 71 anni di attività e siamo alla terza generazione, anzi alla quarta generazione che guida tutt'oggi l'azienda. Nasce una storia di successo che nasce con una piccola torrefattrice, una torrefattrice da 5 kg nei vicoli del centro di Napoli che poi si allarga fino ad arrivare ad oggi distribuendo il nostro caffè in tutta Italia, sicuramente leader di qualità nel sud Italia e 35 paesi nel mondo. Passalacqua è la tradizione del caffè napoletano, da 70 anni produciamo caffè di elevata qualità, la nostra garanzia e la costanza del prodotto nel tempo. Acquistiamo 14 origini da diverse parti del mondo e queste 14 origini portano ad avere un prodotto eccellente in tazza. Riusciamo a miscelarle in modo abbastanza costante ed equilibrato e riusciamo ad accontentare gran parte dei nostri clienti. Abbiamo circa 14 miscele, miscele che vengono poi selezionate e proposte in base alla geolocalizzazione di ogni singolo cliente. Caffè Verniano nasce nel 1882, siamo un'azienda 100% proprietà della famiglia, chiudiamo l'anno 2018 in crescita a 89 milioni e mezzo di fatturato. Un'azienda dedicata principalmente alla qualità, qualità del prodotto, qualità del servizio, qualità delle persone che lavorano con noi. Abbiamo una capilarità sul territorio nazionale italiano, una distribuzione a livello mondiale su 95 paesi, siamo presenti nelle migliori catene della grande distribuzione. Qui a SIGEP presentiamo nuove tendenze, presentiamo la nostra nuova accademia nata a fine settembre, quindi improntata alla formazione delle persone che lavorano con noi, dei nostri venditori, dei nostri clienti per migliorare l'erogazione dell'espresso e elevare sempre di più la professionalità dei nostri clienti. È un'azienda di produzione diretta, noi importiamo intorno ai 120.000 tonnellate di caffè di crudo e esportiamo anche in tutto il mondo prodotti anche per conto terzi, quindi con altri marchi. Il marchio che per noi è importante ed è di proprietà nostra è quello che presentiamo qua nello stand ed è un prodotto veramente di alta qualità, tra l'altro richiama la tradizione di Bologna perché è un marchio nato nel 1918 e l'anno passato abbiamo festeggiato il centenario di questo brand per Bologna importantissimo.